La pelle secca Scoprite 6 maschere per la pelle secca La pelle è la prima difesa del corpo umano contro i microrganismi presenti nellambiente, dunque è fondamentale prendersene cura e proteggerla. Una delle affezioni più comuni della pelle è la secchezza. Anche se esistono diversi trattamenti in grado di rimediare a questo problema, a lungo andare possono avere gravi conseguenze. Per questo motivo, la cosa migliore è scegliere rimedi naturali. A seguire vi mostriamo delle maschere per la pelle secca. Provatele e scegliete la vostra preferita. Maschera a base di avocado, olio di mandorle e vitamina E. L'avocado è l'ingrediente perfetto per stimolare l'idratazione facciale. Grazie ai suoi oli naturali, all'acido folico e alle vitamine, aumenta la flessibilità e riduce le rughe. Questi benefici aumentano insieme alle proprietà dell'olio di mandorle e della vitamina E. Ingredienti. Un mezzo avocado 5 gocce di olio di mandorle 1 capsula di vitamina E. Procedimento. Schiacciare l'avocado in un recipiente di plastica fino ad ottenere una purea omogenea. Aggiungere 5 gocce di olio di mandorle e il contenuto della capsula di vitamina E. Mescolare gli ingredienti per amalgamarli alla perfezione. Applicare la maschera su tutta la faccia e lasciar agire per 20 minuti. Rimuovere con acqua tiepida e ripetere ogni settimana. Maschera idratante a base di fragole, banana e avocado. La fragola è uno sbiancante naturale della pelle e apporta acido acetilsalicilico. Quest'ultimo è un importante ingrediente per ottenere una profonda pulizia del viso. Ciò, insieme alle proprietà idratanti dell'avocado e della banana, rende questa maschera un rimedio facile ed economico per rendere la pelle morbida e soda. Ingredienti. Due fragole grandi 1 banana ½ avocado 1 cucchiaio di olio d'oliva . Procedimento. Mettere nel frullatore le fragole, l'avocado e la banana. Frullare fino a ottenere un composto omogeneo e aggiungere l'olio d'oliva. Applicare sulla pelle del viso e del collo, lasciare agire per 15 minuti e rimuovere con acqua tiepida. Applicare la maschera 3 o 4 volte al mese per combattere la secchezza della pelle. Maschera a base di uovo e miele per una pelle morbida. Volete una maschera che elimini una volta per tutte diversi inestetismi oltre alla secchezza? In questo caso, questa ricetta è tutto quello di cui avete bisogno. L'uovo elimina le impurità della pelle e riduce le borse sotto gli occhi. Il miele è ricco di antiossidanti e un eccezionale astringente. Insieme, entrambi gli ingredienti sono perfetti per abbellire la pelle senza causare effetti indesiderati. Ingredienti. 1 tuorlo d'uovo 1 cucchiaino di miele. Procedimento. Mescolare gli ingredienti in modo da ottenere una maschera uniforme. Distendere sulla pelle del viso e del collo. Lasciare agire per 20 minuti, poi sciacquare con abbondante acqua. Ripetere due volte al mese. Il cioccolato è un idratante e ammorbidente naturale ricco di antiossidanti che combattono l'invecchiamento precoce della pelle. Inoltre, agisce come rimedio naturale contro le irritazioni cutanee. Se volete approfittare di tutti i benefici del cioccolato per ridurre la secchezza della pelle, senza spendere un patrimonio in costosi trattamenti da SPA, provate questa maschera. Ingredienti. 1 barretta di cioccolato puro senza zucchero 3 gocce di olio di mandorle. Procedimento. Sciogliere a bagno Maria la barretta di cioccolato. Aggiungere l'olio di mandorle e mescolare bene. Una volta tiepida, applicare la maschera sulla pelle pulita e lasciare agire per 15 minuti. Rimuovere il cioccolato dal viso con l'aiuto di un panno umido. Maschera a base di avena e uovo. La secchezza aumenta le probabilità di comparsa di rughe precoci sulla pelle. Per fortuna, vi sono ingredienti che possono ridurla, insieme ai problemi ad essa associati. Ingredienti. 2 cucchiaio di farina d'avena, 20 g, 1 albume d'uovo. Procedimento. Setacciare la farina d'avena in un recipiente. In un altro porre l'albume e montare. Aggiungere poco a poco la farina d'avena e mescolare fino ad ottenere una maschera uniforme. Applicare sul viso con l'aiuto di un pennello. Maschera a base di avena, miele, olio di geranio e di camomilla. Si tratta di un esfoliante delicato e ottimo per combattere la secchezza della pelle. Applicandolo con regolarità, otterrete risultati immediati e prolungati. Ingredienti. Mezzo tazza d'avena, 30 g, 1 cucchiaino di miele, 7,5 g, 2 cucchiai di latte, 20 ml, 2 gocce di olio di geranio, 2 gocce di olio di camomilla. Procedimento. Mescolare tutti gli ingredienti e applicare il composto con le dita tramite massaggi circolari. Lasciare agire per 15 minuti e rimuovere con acqua tiepida. Consigli per applicare le maschere per la pelle secca. Dopo aver applicato le maschere, sciacquare il viso con abbondante acqua tiepida e asciugarlo delicatamente con un asciugamano. Dopo aver rimosso la maschere, applicare una crema idratante per favorire l'effetto desiderato. Proteggere la pelle da agenti esterni nocivi, come raggi solari, freddo estremo e riscaldamento. Non si deve mai andare a letto senza aver struccato a fondo il viso. Evitare il fumo, poiché quest'abitudine accelera la comparsa delle rughe. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS